bentornati oggi andiamo a vedere un filtro che è un po particolare è diverso rispetto a quelli che abbiamo già visto perché si tratta infatti dell'effetto artistico involucro di plastica come possiamo vedere questo effetto va a cercare di capire com'è composta l'immagine su cui lo stiamo applicando e va a generare quella che potrebbe sembrare una pellicola di plastica applicata sopra la superficie quindi che ne segue i rilievi a seconda del contrasto cominciamo a spegnere l'effetto così vediamo pian piano come è costruito innanzitutto abbiamo l'intensità della luce quindi quanto la pellicola è visibile diciamo che va ad agire su quella che potrebbe essere la luce incidente che colpisce questa ipotetica pellicola se vado a ingrandire vediamo che abbiamo anche la possibilità di lavorare sui dettagli in modo da aumentarli o diminuirli la sfumatura è la parte più importante secondo me perché in questo modo senza nessuna sfumatura ogni rilievo viene letto e viene applicata una transizione che è molto netta andando invece ad applicare una sfumatura è possibile via via ammorbidire questo questa pellicola in modo da renderla realistica immaginiamoci una bustina di plastica del supermercato non avrà mai delle righe nette come quelle che vedevamo all'inizio ma sarà piuttosto un qualcosa di questo tipo una volta che abbiamo raggiunto la consistenza desiderata possiamo andare a lavorare ulteriormente sui dettagli anche se personalmente li terrei abbastanza bassi e adesso possiamo decidere quanto vogliamo che sia visibile ovvero quanta luce riflessa vogliamo su questa pellicola in via del tutto ipotetica una cosa del genere potrebbe quasi sembrare realistica ovviamente ci si può lavorare meglio in base al tipo di immagine però non è male questo effetto è simpatico ed eccolo applicato sull'immagine il nostro corso di immagine è 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 il nostro corso di immagine è